Siamo in diretta, ben ritrovati, 30 di settembre, siamo l'ultimo giorno di questo mese di settembre. Il settembre che è anche un mese importante perché abbiamo visto il ritorno a scuola con tutte le incognite, il ritorno del freddo, insomma tante belle novità. L'ultimo giorno di questo mese, allora vediamo di passarlo bene insieme come con le notizie, le notizie in primo piano nei giornali di questa mattina. Iniziamo però come sempre dal santo, il calendario del giorno, lo vediamo subito. Oggi è San Girolamo, sacerdote e dottore della chiesa. L'alba sorgerà alle 7.07, tramonterà alle 18.54 minuti. Il tempo. Allora, cielo sereno poco nuvoloso per la giornata di oggi con temperature che sono stazionari a un lieve aumento. Per quanto riguarda la giornata di domani invece, giovedì 1 ottobre il mese si apre ancora con cielo sereno poco nuvoloso. Venerdì 2 ottobre pioggia soprattutto, probabile nel pomeriggio, in montagna o in collina, soprattutto nella parte settentrionale della regione. Durante la giornata di sabato un transito di un fronte freddo con precipitazioni o prevalente carattere di rovescio porterà in stabilità anche per la giornata di domenica. Andiamo subito a vedere i giornali. Cominciamo dal Carlino di Pesero, il re delle truffe. Un'auto con 10 euro riesce a taroccare un assegno di pochi spiccioli e beffa il concessionario, ma ora è sotto processo. A centropagina la Cassazione, no ai due padri. Il caso dei gemellini, altra bocciatura, ma non è finita. Alla Parco la denuncia di una residente. I ragazzini fanno sesso al Parco Scarpellini davanti a tutti. A Urciano invece un'auto è andata a fuoco, c'è l'ombra del dolo. Di spalla in primo piano il Premier Conte che dice e annuncia verrà ad Urbino per celebrare Raffaello. Le sligate invece incontro con Anas, il guardrail oppure quattro rotatorie. L'operazione sicurezza. Vis, siamo allo sport, di taglio basso. Il Bebi Stramaccioni va alla Juventus, accordo fatto per il difensore di 19 anni, ma quest'anno resterà in bianco-rosso. Basket gaff su Pesaro. Ora Gandini chiede scusa, chiede scusa alla città, al sindaco. Il Presidente interviene dopo lo scivolone sulle Final Eight. E adesso il Corriere Adriatico in apertura, sempre l'edizione di Pesaro. Chioschi, edicole e fiorai. Si cambia, le strutture diventeranno stabili. Il progetto del Comune si parte dalla proroga delle concessioni. Sarà avviata la ricognizione delle attività. La novità riguarda tutti i quartieri e non solo il centro storico. La mappa dei 124 comuni che resistono all'avanzata dell'epidemia. L'epidemia riguadagna terreno, conquistando zone rimaste immuni nella fase 1, ma nelle Marche resistono ancora 124 comuni che sono praticamente covid-free su 227. Bimbo positivo all'asilo nido, ad Acqualagna isolata. La classe di spalla, dopo le regionali, ultime ore per la giunta. Forza Italia spinge per Pasqui. Dunque, una giornata romana per Francesco Acquaroli, che dopo l'incontro matutino con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha dato avvio ai confronti vis-à-vis, faccia a faccia con i responsabili regionali dei partiti di coalizione. Un tour de force per definire i contorni della giunta regionale targata centrodestra. Forza Italia spinto per l'ex sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui. Ne parleremo tra poco, vedremo le pagine interne. A Pesaro, richiesta all'ANAS sulla sigata, tre piccoli rondò. Sempre da Pesaro, Ricciatti protesta. L'ex onorevole, treno in ritardo, pendolari ignorati. Si parla di una coincidenza. Residenze a sorpresa, del treno ovviamente, residenti a sorpresa, via Fratti pericolosa, eliminate i parcheggi. Minacce, qua di taglio basso, minacce, botte e violenze. Incubo finito in tribunale, il marito già arrestato compare davanti al giudice, l'associazione Gens Nova a tutela di moglie e figli. E poi ancora un solo papà per i gemellini, doppia paternità, ora cancellata. È ufficiale, c'è un legame tra smog e covid. La pianura pedana come una stanza chiusa. Queste sono le mappe, così a marzo e così lo smog appunto in Italia. La pianura pedana come una stanza chiusa. Dicevo, allo studio della Società di Medicina Ambientale, l'inquinamento è stato un'autostrada per la diffusione del contagio. A Bergamo, già a fine febbraio, pezzi di patrimonio genetico del coronavirus erano mescolati alle polveri sottili. Intanto, a proposito del vaccino, c'è l'allarme degli ambientalisti, perché? Nel vaccino c'è anche lo squalene, mezzo milione di pesci a rischio. Almeno cinque vaccini, tra quelli allo studio, contengono squalene, cioè un componente naturale che si ottiene dai pescecani. Se uno di questi vaccini dovesse funzionare, dicono gli ambientalisti, e venisse prodotto per soddisfare la richiesta mondiale, con due dosi previste a persona, oltre mezzo milione di squali, sarebbe ucciso per soddisfare la richiesta dello squalene. Caos vaccini non ci sono per tutti, invece. La situazione in Italia, la situazione nelle Marche, arriva l'influenza e i rebus sono ancora troppi. Per le categorie a rischio mancano più di 130 mila dosi di vaccino. Vaccinatevi, questo è l'invito, ma ancora non sono state spiegate bene le regole. Si comincia a metà ottobre anche nei Palasport. Via Libera e i tamponi rapide nelle scuole, titola il Carlino, e arriva il primo caso di influenza stagionale. Test come negli aeroporti, c'è l'ok del Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministero della Salute, così isoleremo subito i focolai. Vacanze sicure solo in Italia, i consigli di viaggio della Merkel, la cancelliera tedesca. Intanto luce e gas, dopo il Covid arriva la stangata, tariffe più alte da domani, in bolletta rincari fino a 166 euro l'anno a famiglia. I consumatori parlano di mazzata anche per le imprese. Nel dettaglio l'aumento del 15,6% per l'energia elettrica e dell'11,4% per il gas. La causa è la crescita dei prezzi delle materie prime. Le Marche in trincea, pronte a riaprire il Covid Hospital, un incontro all'Asur per riattivare la struttura di Civitanova, una strategia per evitare i doppi percorsi negli ospedali e limitare i contatti con i pazienti positivi al coronavirus. La struttura di Civitanova è inaugurata il 16 di maggio, il 5 giugno è stata chiusa dopo aver avuto tre pazienti contemporaneamente. Il costo di questa struttura, lo ricordiamo, 12 milioni di euro. Intanto il piano della Regione, 300 posti lettoni di animazione, un piano strategico che non farà trovare impreparate le Marche nel caso in cui il coronavirus dovesse tornare a colpire come all'inizio della pandemia. Il coronavirus guadagna terreno ma resistono ancora 124 comuni. Siamo sempre nelle Marche. tra agosto e settembre si sono persi 40 territori covid free. Il 55% delle Marche resta però libero e nella provincia di Pesaro e Urbino, come un fortino, il caso di dire giocando con il nome del comune che resta ancora lì come un baluardo, è appunto Frontino, l'unico comune, piccolo comune, che non è stato toccato dalla pandemia e dal virus. Intanto un bimbo positivo ad Acqualagna, chiusa a sezione del Nido Sabin, nuovo caso di covid dopo quello riscontrato alla primaria Mattei. Il sindaco Lisi dice quarantena solo fino al 2 di ottobre. Intanto nella nostra provincia, quella di Pesaro e Urbino, nelle ultime 24 ore non si registrano contagi. Incassi dimezzati e tanta concorrenza, così il covid ha cambiato il nostro mercato, viaggio tra i commercianti del San Decenzio a Pesaro, pochi affari e tasse, con le mascherine in viso ci manca anche il rapporto con il cliente. Intanto test rapidi nelle scuole, positivi subito isolati, via libera alla gara d'appalto per oltre 5 milioni di stick, la risposta in 20 minuti. Alcune classi sono già in quarantena, chiudono i primi esili per il rischio contagio coronavirus nelle Marche. Proprio ieri il commissario straordinario per l'emergenza covid, Domenico Arcuri, ha dato il via libera alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi destinati alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di SARS-CoV-2 presenti su un tampone nasofaringeo e campione o campione salivare. Le offerte dovranno essere presentate entro il 18.30 di giovedì 8 ottobre. Influenza in arrivo 420 mila dosi di vaccini, sarà coperto il 70% delle persone a rischio, titola il Corriere Adriatico. Il piano dell'Asur Marche è pronto a scattare entro il 15 di ottobre, prima la campagna però informativa. La Regione ha esteso le fasce gratuite da 60 ai 64 anni e dai 6 mesi ai 6 anni. La politica con Acquaroli Meloni e gli alleati nella lunga giornata romana spunta anche Pasqui di Forza Italia. L'ex sindaco pronto per fare il capogruppo, spariglia le carte della Giunta, con lui dentro Saltamarini, Lega sarebbe fuori, Nodo, Ciccioli e Quoterosa. Questo è il riquadro con il Totto Nomi, con chi è in ascesa e chi invece è in discesa. Tra coloro che sono sempre lì in ascesa e confermati c'è il fanese Mirko Carloni, poi Andrea Antoni, Chiara Biondi, poi Guido Castelli di Fratelli d'Italia, Francesco Baldelli, un altro pesarese, l'ex sindaco di Pergola, ancora in ascesa, mentre in discesa Elena Leonardi e Carlo Ciccioli. Mentre in Forza Italia, ecco la sorpresa, Gianluca Pasqui e Stefano Guzzi, che resta comunque in ascesa. Invece in discesa Daniele Silvetti, sempre di Forza Italia, e Jessica Marcozzi. La cronaca dal Carlino, tocca l'alta tensione, rischia di morire, incidente per un operaio che manovrando una gru è entrato in contatto con la rete elettrica, immediati i soccorsi, è successo ad Apecchio, una brutta avventura ieri mattina intorno alle 10, lungo la provinciale della Serravalle di Carda, scende verso la frazione di Valdara, da Apecchio, l'operaio un giovane trentenne di Napoli che insieme ad altri lavora per una dita che si occupa di canalizzare la fibra ottica utile a velocizzare la rete internet, ha toccato con il braccio della gru i fili della corrente, finendo per essere colpito dalla scarica elettrica. Queste sono le fotografie che si riferiscono al palo della corrente, l'uomo è sempre rimasto comunque cosciente, una scarpa si è totalmente bruciata. E a proposito di fiamme, andiamo sulla pagina della Valle del Cesaro del Carlino, perché a terre roveresche è mistero sull'incendio di un'auto verificato sia alcune notti fa a Dorciano. A condurre le indagini per stabilire se le cause del rogo sono state accidentali o se invece potrebbero far supporre alcuni elementi, si tratta di un episodio procurato, sono i carabinieri di terra roveresche guidate dal luogotenente Antonio Russo. È una macchina, una Volkswagen Golf Serie 7, a metano, di proprietà di una giovane coppia residente in una villetta bifamiliare alle porte del paese, sul lato mare. Ed è andata a fuoco. Adesso si cerca di capire l'origine di queste fiamme. A Fanno invece c'è in prima pagina la notizia di quella mamma che frettolosamente, come accade spesso, a volte i giornali, noi della televisione, insomma i mass media in generale hanno descritto appunto frettolosamente in questo modo. Madre chiude la figlia in casa e poi esce, come se fosse andata a fare la spesa e lei, matrigna cattiva, avesse chiuso la figlia dentro così per un gesto, come gesto di autorità. In realtà non è così. La storia che oggi ci racconta Benedetta Iacomucci sul giornale è tutta da leggere ed è una storia terribile. Racconta l'avvocato della donna che appunto difende questa mamma, mamma disperata. Figlia chiusa in casa, la vittima è la madre, 15 anni liberata dalle forze dell'ordine, parla l'avvocato della genitrice, è una donna disperata. La ragazzina abusa di alcol e anche di droga. Quanto accaduto l'altro ieri è l'epilogo di una storia drammatica e forse il peggio deve ancora venire, dice l'avvocato Larocca del foro di Ancona che difende la mamma della quindicenne è finita sotto accusa per aver chiuso la figlia in casa. La giovane ha poi contattato i carabinieri, questa è la cronaca che abbiamo raccontato, con l'aiuto dei vigili del fuoco l'hanno fatta uscire dal terrazzo. Poi è stata affidata ai servizi sociali. Ma la donna non ci sta a passare da carceriera né da aguzzina, non le importa di avere ragione o torto, desidera solo che arrivi forte e disperato il suo grido di dolore, la sua estrema richiesta di aiuto per non perdere quell'unica figlia finita in un tremendo giro di alcol e droga. Non solo noi dobbiamo leggerlo comprando il giornale, ma anche chi ha titolo e deve intervenire su questa vicenda, servizi sociali compresi. Insomma, è una storia davvero terribile. Rendito di cittadinanza 3 su 4, non lavorano, siamo sempre sulla pagina di Fano del Carlino di Oggi. Nell'ambito sociale sono 1.198 i beneficiari, ma solo 308 hanno in corso progetti di inclusione. L'assessore al welfare del Comune di Fano, Tinti, dice, la misura è da rivedere. Con il reddito di cittadinanza stiamo sprecando risorse che andrebbero utilizzate per bisogni concreti delle persone. L'assessore Tinti dice, non punta l'indice contro questo reddito di cittadinanza che dalla sua introduzione nell'aprile 2019 ad oggi non si è trasformato in uno strumento di inserimento lavorativo, ma rimane una misura semplicemente assistenziale. Per quanto riguarda invece sempre la pagina di Fano del Corriere Adriatico, andiamo allo stadio. Cantiere aperto al Mancini per gradinate 4 torri faro. Il vice sindaco fanesi assicura che i lavori non interferiranno con le partite del Fano e questa è la fotografia dell'area dove è stato allestito appunto il cantiere. Domenica con il Padova si parte a porte chiuse in seguito al massimo via libera a 400 spettatori. Fondazioni, andiamo a Pesero, Fondazione Toto Nomine per il Consiglio Generale sono stati votati Alberto Ficare, ex segretario generale Paolo Balestrieri, presidente dei commercialisti e Roberto Bracci. Bettini si dimette con polemica. Enti locali si cura la riconferma di Emanuela Scavolini come rappresentante della Camera di Commercio. Ancora politica, giochi aperti per Baiocchi comunque soddisfatto. Risultato storico per Fratelli d'Italia l'esponente commenta il 17,25% ottenuto dal partito della Meloni. Numeri che ci fanno ben sperare per le prossime amministrative del 2024. La TOSAP non si pagherà neanche a Natale invece a Fano suolo pubblico gratuito per le attività provvedimento esteso fino alla fine dell'anno dopo il successo estivo e la richiesta dei commercianti. La misura prevista fino al 31 di ottobre sarà estesa ma bisognerà rifare la domanda. Invece c'è l'altra notizia che vi abbiamo dato anche sul giornale di ieri nuova candidatura per Fano ora punta la capitale del libro sul piatto c'è mezzo milione di euro. Si ligate invece Anas propone il guardrail la risposta meglio quattro rotatorie l'idea messa sul tavolo dai tecnici arrivati da Roma non convince per le conseguenze sulla viabilità così l'enteparco San Bartolo e il comune rilanciano il loro progetto. Ieri l'incontro promosso da da Biancani intanto sempre a Pesaro chioschi baretti edicole e fiorai le strutture diventeranno stabili il progetto del comune di Pesaro si parte dalla proroga di due anni per l'occupazione del suolo pubblico poi partirà la ricognizione delle attività la novità riguarda tutti i quartieri e non solo quelli del centro storico New Jersey solo fuori dai centri abitati ma meglio tre piccoli rondò sperimentali sicurezza sulla siligata incontro tra Anas quartiere comune stop al progetto fino alla grande rotatoria in via Fratti però secondo i residenti via Fratti è troppo pericolosa se necessario via i parcheggi il progetto che cambia la circolazione il tecnico dice nessuno aveva mai accettato tagli alla sosta mentre i gemellini con due padri altro no anche la Cassazione infrange il sogno la Suprema Corte boccia il ricorso della coppia di Gabice che si era vista trascrivere l'atto di nascita all'anagrafe del comune dunque dopo il tribunale di Pesero anche la Cassazione dà un colpo un nuovo colpo al sogno al sogno di questa coppia gay di Gabice Mare di vedersi riconosciuti entrambi babbi dei loro gemellini avuti in California il covid cambia il modo di fare catechismo questo è il Carlino di Senigallia la pandemia ha influito sull'attività della chiesa riprenderà a dicembre ci siamo presi i mesi di ottobre novembre per riorganizzarsi e nei campi estivi è emerso che i ragazzi preferiscono nuove modalità per imparare appunto il presidente Conte verrà a visitare Urbino andrò a casa Raffaello dice il premier e a Palazzo Ducale il capo del governo lo ha confermato a Palazzo Chigi nel corso di un incontro con Alfonso Pecoraro Scagno e con Gianluca Carrabs che gli hanno consegnato la moneta da 2 euro su Raffaello e una stampa su Urbino intanto andiamo sull'altra pagina del giornale sempre ad Urbino l'Ateneo si prepara ad eleggere il rettore il candidato unitario e l'economista Giorgio Calcagnini si prevede una consistenza affluenza per l'Ateneo è un momento comunque importante alcuni alle urne professori ricercatori personale tecnico e amministrativo e anche gli studenti e c'è un'intervista che il Carlino fa con il nuovo rettore Stramaccioni siamo alle pagine sportive Stramaccioni alla Juve ma resta fino a giugno alla Vis torna Bismarck colpo grosso del club bianco-rosso che aveva preso il giocatore da svincolato i soldi incassati sono stati in parte reinvestiti nell'ingaggio della punta ganese poi ancora Fano un vero peccato il faro del centrocampo Amadio torna sulla gara di Perugia l'impresona era ad un passo davvero la vittoria intanto sono arrivati Longo e Martell ma solo per il primo è stato formalizzato il prestito l'attaccante classe 98 e il terzino destro 2000 sono entrambi di proprietà del Parma WL sconfitta alle spalle c'è Cantù da domare la troupe di Repegia è tornata al lavoro ma dovrà studiare il video gli errori commessi al debutto in campionato con il team di Pozzecco ecco che cosa accadrebbe in caso di Covid nelle squadre del campionato si parla anche dell'emergenza sanitaria poi sulla gaff del presidente della Lega di Basket riferita a Pesero dove aveva detto che Pesero era inadatta alle finali della Final Eight le scuse del presidente Gandini mi spiace aver dato adito a errate interpretazioni assolutamente lontane dalle mie intenzioni era appunto sulla polemica delle dichiarazioni del numero uno della Lega Basket di Serie A pollici alto invece in alto per i tifosi ai quali piace la nuova WL anche se soltanto in TV la squadra supera l'esame domenica sera a Cantù un altro match probante mentre la Pallavolo non dimentichiamoci abbiamo anche la Pallavolo nelle Marche è una super squadra che è campione di tutto praticamente ha vinto tutto la Lube di Civitanova è tornata la vera Lube a Verona si è rivisto il bel gioco della scorsa stagione ora in programma due gare casalinghe c'è ancora incertezza sulla possibilità dei tifosi di assistere alle partite all'Eurosuole Forum e questa è la pagina che chiude la nostra segna stampa è un invito un invito all'ascolto lunedì 5 ottobre qui su Fano TV torna Primo Cittadino torna dopo la pausa dedicata alle regionali e lo faremo con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e quindi l'appuntamento è per il 5 poi lunedì successivo invece sarà la volta del sindaco di Fano Massimo Seri e poi quella dopo lunedì prossimo il terzo lunedì sarà con Stefano Guzzi sindaco di Colli al Metauro vedremo poi se sarà anche in veste di assessore regionale oppure no perché ormai per quella data sarà tutto più chiaro e deciso ci fermiamo qui abbiamo tempo ancora qualche minuto sì allora prima di salutarci andiamo velocemente a rivedere le due prime pagine dei quotidiani locali la pagina del resto del carico di Pesaro apre con il re delle truffe che è riuscito a prendere un'auto con 10 euro riesce a taroccare un assegno da pochi spiccioli beffa il concessionario ma ora è sotto processo poi la denuncia di una residente i ragazzini fanno sesso al parco Scarpellini davanti a tutti a Urciano un'auto a fuoco c'è l'ombra del Dolo poi abbiamo visto poco fa il premier Conte però a Urbino per celebrare Raffaello la figlia chiusa in casa e la madre invece la vera vittima da Fano storie drammatiche e poi quelli che protestano strada colabrodo e auto contromano la rabbia dei residenti di un quartiere di Pesaro si ligate incontro con Anasi il guardrail oppure quattro rotatorie operazione sicurezza gaffa su Pesaro ora Gandini chiede scuse il presidente di Lega interviene dopo lo scivolume sulle final eight e poi il baby stramaccioni va alla Juventus andiamo a vedere invece adesso il Corriere Adriatico Corriere Adriatico che apre da Pesaro con i chioschi l'edicole i fiorai che cambiano le strutture diventeranno stabili progetto del comune si parte dalla proroga delle concessioni sarà avviata la ricognizione delle attività la novità riguarda tutti i quartieri e non solo il centro a centro pagina invece i 124 comuni che resistono all'avanzata dell'epidemia l'epidemia riguadagna purtroppo terreno conquistando zone rimaste immuni nella fase 1 ma nelle Marche resistono ancora 124 comuni covid free su 227 poi abbiamo visto in rassegna stampa un bambino positivo all'asilo nido isolata alla classe mentre per le regionali dopo le regionali ultime ore per la giunta e Forza Italia spinge su Pasqui che è l'ex sindaco di Camerino che entra dunque nel toto giunta e un po' a sorpresa minacce botte e violenze incubo finito in tribunale il marito già arrestato compare davanti al giudice l'associazione Gensnova a tutela di moglie e figli un incubo questa è una storia che arriva da Fano un incubo vissuto tra le mura domestiche e che ora dopo l'arresto del marito è arrivato davanti al GUP del tribunale di Pesaro una storia di maltrattamento in famiglia e violenza sessuale per la prima volta l'associazione Gensnova si costituisce parte civile in un processo a Pesaro la famiglia vive a Fano e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a Pesaro 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 a Pesaro